Buonasera a tutti e bentornati con un nuovo webinar di WebSIM dedicato ai mercati finanziari e alle strategie di investimento. Prima di immergerci però nelle diverse analisi, diverse asset class di alcune delle strategie per operare al meglio anche con i certificati di investimento, vado a presentare subito i miei ospiti di oggi che vedo già collegati e pronti per aiutarci a comprendere e interpretare al meglio la situazione attuale. E quindi do subito il benvenuto a Jacopo Fiaschini, specialista prodotto di Fontobel. Buonasera Jacopo, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, ciao Giulio, un piacere essere qui, ciao Diego. E buonasera appunto anche a Diego Toffoli, responsabile di advisory gestione di Intermonte. Grazie Diego per essere qui. Anche da parte mia, buonasera a tutti, buonasera Jacopo e Giulio. Benissimo, prima però di partire con i tanti temi caldi di oggi, chiederei per prima cosa a tutti i partecipanti di confermarci che sia tutto ok, quindi se ci vedete, se ci sentite correttamente. Poi altra cosa, mi raccomando, il nostro obiettivo è quello di fare sia un webinar il più possibile formativo, ma anche interattivo, quindi fate pure tutte le domande che ritenete opportune, tutte le curiosità in modo che noi possiamo rispondervi senza nessun problema. Abbiamo appunto il box apposito in basso. Intanto grazie per le conferme, direi quindi di partire. Durante il webinar intanto faremo anche dei sondaggi, vi anticipo, quindi potete votare, anzi qui il mio consiglio è quello di farlo, tanto sono pure in formato anonimo. Benissimo, però prima di coinvolgere i miei ospiti, volevo andare a condividere con voi un attimo lo schermo per fare una brevissima carellata di quella che è la situazione sui mercati, anche perché le cose che succedono sono parecchie, quindi qui vediamo ad esempio il grafico dello standard EMPUR 500, mercati che sì sono più deboli nelle ultime sedute, stiamo osservando comunque una certa debolezza rispetto a perdire la settimana scorsa, infatti abbiamo l'indice standard EMPUR 500 che dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico nella seduta del 17 ottobre sta mettendo a segno un movimento ribassista, un ritracciamento appunto dei massimi storici. Una situazione analoga anche a quanto visto sull'indice dei tecnologici, quindi sul Nasdaq 100, anche se qui non abbiamo raggiunto settimana scorsa nuovi massimi storici, infatti rimangono quelli del luglio di quest'anno. Un'Europa invece un pochino più sottotono, non nelle ultime sedute ma in realtà negli ultimi sei mesi, infatti abbiamo un indice Eurostox che si mantiene comunque a 4.930, quindi poco sotto i 5.000 punti. Tra i best performer in Europa abbiamo il Fuzzimib, che rialza del 14% circa da inizio anno e anche qui ci stiamo riportando verso i massimi di maggio del 2024, che tra l'altro sono massimi del 2008. Le tensioni geopolitiche intanto rimangono al centro, continuano ad essere monitorate dagli operatori di mercato e continuano anche a tenere sotto scacco alcune materie prime, come il petrolio e l'oro, con quest'ultimo che tra l'altro proprio ieri ha raggiunto nuovi massimi storici. Faccio vedere, esatto, questo qua è il grafico intraday dell'oro, il trend rialzista dell'oro è ben evidente, magari dopo ne parleremo, farò magari qualche domanda anche su questi nostri ospiti. e intanto sul fronte valutario continua quella che è la debolezza del cambio euro-dollaro, che non è riuscito a superare la resistenza statica verso 1,12 e da lì ha messo a segno una sorta di doppio massimo, ritracciando e qui siamo a 1,07. Per chiudere andrei sul fronte obbligazionario, dove stiamo invece vedendo un rialzo dei tassi, in particolar modo per quello americano, con il T-NOT, quindi il T-NX, che si è portato stabilmente sopra la soglia del 4%. E partirei proprio da qui, quindi partirei dai tassi, sulla questione dei tassi, e quindi Diego, quali sono i motivi di questo rialzo che stiamo vedendo nelle ultime settimane? Sì, come hai detto bene, c'è stato un movimento forte, soprattutto nell'ultima settimana, sui tassi americani in realtà, perché se poi andiamo a vedere la parte europea, non siamo a sapere di tanto. Ma i motivi alla base del rialzo sono diversi, direi prima di tutto, sicuramente è un'economia americana che sta andando meglio del previsto. Nel grafico che stai mostrando, alla fine, nella parte sotto, vediamo quello che è l'indice di siti sull'economic surprise, che fa vedere effettivamente che i dati usciti nell'ultima fase, nell'ultimo periodo, stanno sorprendendo. Di conseguenza, nella parte alta, dove vediamo un po' il movimento dei tassi, in realtà questi sono i tassi, un aggregato dei tassi del G7, ma poi alla fine, quello che muove più di tutto, è il Treasury, mostra effettivamente un rialzo, un rialzo che potrebbe portare il Treasury, c'è chi punta anche a un 4 e mezzo all'inizio del 2025. La Fed ci ha lasciato, con un taglio tassi del 50 basis point, e con un messaggio abbastanza aggressivo da parte di Powell, su quello che sarebbe potuto essere il movimento a ribasso anche in futuro. Probabilmente il mercato si sta scommettendo sul fatto che la Fed rivedrà un po' la sua politica, il realizzamento sui tassi non sarà così veloce come ci si aspettava, e questo sta portando a questo rialzo dei tassi. Questo è uno dei motivi. Poi in realtà ce ne sono altri. Un altro motivo è sicuramente il tema delle elezioni, che si avvicinano al 5 novembre. E come ho detto sui tassi? Sì, c'è una preoccupazione un po' su... Diciamo che al momento, poi magari lo vedremo dopo, è dato come in vantaggio Trump. Trump, un po' come era già successo nel 2016, viene visto un po' come la parte molto cattiva, cosa dovrebbe succedere una volta eletto Trump, tutti sono preoccupati, poi nel 2016 abbiamo visto che in realtà il mercato è andato in tutt'altro verso, però il tema è un po' sul debito. In realtà i trambi candidati hanno nel loro programma una spesa abbastanza importante sul debito, più consistente è quella di Trump. Diciamo che quello che provoca un po' più il mercato è il fatto che, visto che c'è anche il rinnovo del Congresso, che ci sia una vittoria sia da parte dei repubblicani come Presidente, sia come al Congresso. Questo vorrebbe dire una possibilità di manovra molto più agile. Quindi questo è sicuramente un tema di preoccupazione e infine se un altro tema è anche il flusso di emissioni che vediamo in questo periodo. Anche qui le aziende tendono, vorrebbero emettere, vogliono emettere prima delle elezioni per evitare diciamo quello che potrebbe essere il dopo elezione, quindi l'incertezza. dall'altro lato però non possono emettere in questo momento perché siamo in una fase in cui di breakout period per cui stanno riportati i dati, quindi probabilmente emetteranno nei prossimi giorni, nella prossima settimana e il mercato si sta un po' portando avanti alleggerendo magari la parte del portafoglio per poi rientrare dopo. Quindi sono un po' i motivi che stanno spingendo un po' i tassi a rialzo. Chiaro, ma rimaniamo un attimo ancora sul discorso dei tassi perché la BCA ha da poco tagliato per la sua seconda volta quest'anno i tassi di interesse ma adesso gli operatori sono tutti in attesa dell'altra decisione importante di politica monetaria però sul fronte della Fed. Quali sono già le aspettative ma quali sono le aspettative su questo fronte e come sono cambiate nell'ultimo periodo? Ma diciamo sì la riunione della Fed la avremo adesso a settembre il mercato si aspetta che i tassi possano i tassi ha circa 127 punti base entro settembre del 25 insomma probabile che qui taglierà di 25 basis point e non come magari qualcuno si aspettava di 50 forse dall'altro lato è diventata più aggressiva da questo punto di vista forse la BCA nel senso che giusto qualche giorno fa la lagata non ha escluso l'idea che il taglio che fino all'altro giorno ci si attendeva a essere di 25 basis point a dicembre possa essere invece di 50 perché come abbiamo visto dai dati l'economia europea va molto peggio di quella americana quindi magari ha bisogno di una mano da questo punto di vista quindi diciamo dal lato Fed come dicevo il mercato probabilmente si aspetta un rallentamento dell'azione di Powell vedremo sicuramente se ricordiamo un po' l'azione della Fed non ci ha mai beccato negli ultimi anni si è sempre mossa un po' in ritardo le ultime aspettative come dicevi sono cambiate anche dopo gli ultimi dati sul mercato del lavoro quindi che continuano ad essere solide ok però passerei adesso ho un altro tema caldo anticipato tra l'altro l'abbiamo anche nel titolo del webinar ovvero l'elezione americana del 5 di novembre un evento assolutamente monitorato da tutti gli investitori perché l'esito impatterà e sicuramente influenzerà quello che è l'andamento e le scelte degli investitori e anche qui verte proprio il nostro primo sondaggio di oggi quindi andrei subito a lanciarlo è un po' ok avviato tanto mentre rispondete appunto alla domanda andrei andrei a chiederti Diego per l'appunto cosa ci mostrano i sondaggi e quali sono invece le tue aspettative a riguardo anche qui forse abbiamo un grafico da mostrare sì diciamo che dai sondaggi fino a poco tempo fa i due candidati erano bene o male in linea diciamo in parità come possibilità di vincita di vittoria un testo a testo sì nell'ultima settimana sembrerebbe appunto che Trump sia in vantaggio rispetto alla Harris quindi ovviamente sarà importante vedere poi l'esito dei grandi elettori che sono quelli un po' che decidono lezioni ricordiamo appunto che nella volta scorsa sembrava che Trump lo davano inizialmente per perdente poi dopo invece si è dimostrato il vincitore quindi da questo punto di vista direi che mi sembra dal sondaggio esatto è un testo a testo pure nel sondaggio sono molto simili a quelli che vediamo anche nei vari stiti di sondaggi americani un 50-50 un 50-50 infatti qua abbiamo il grafico che dicevi prima sì questo evidenzia sicuramente in ultima fase come si vede un discreto vantaggio da parte di Trump rispetto alla Harris poi in realtà bisognerebbe vedere per ogni Stato direi che nella maggior parte di questi Stati sono molto bene o male in equilibrio quindi tutto tutto da vedere in questo senso diciamo che questo potrebbe indicare anche che l'esito sarà magari Trump come Presidente e ovviamente invece al Congresso ci potrebbero essere ancora potrebbero affermarsi i democratici e in questo caso è un po' la soluzione tra virgolette migliore per il mercato perché crea una fase un po' di stallo quindi lascia un po' la situazione attuale assolutamente anche perché comunque i mercati non amano l'indecisione lo sappiamo bene quindi saranno da monitorare assolutamente probabilmente forse abbiamo anche un altro grafico dove far vedere un po' quello che è l'andamento del debito ecco queste sono le proiezioni di quella che potrebbe essere l'esplosione del debito americano in caso di vittoria di un candidato o dell'altro candidato da qui a dieci anni come dicevo i due programmi non sono molto differenti si muovono su delle direttive diverse ma comunque tutti e due improntati verso un aumento della spesa più aggressivo è sicuramente quello di Trump quindi anche questo diciamo vorrebbe dire ritornando un po' il tema di prima debito più alto e quindi anche qui magari la spesa che porta a un aumento dell'inflazione e in conseguenza tasse anche più alti quindi la Fed appunto avrà maggiori difficoltà nel suo percorso di taglio ai tassi chiaro? Jacopo come vedi è un testa testa anche tra tutti i nostri partecipanti sul tema appunto di elezioni americane ma voi di Fontobella avete dei prodotti con focus proprio sulle elezioni americane di cui vogliamo parlare? Sì questa è l'ultima novità in casa nostra e ecco per contestualizzare anche con quello che ha detto Diego avevamo intuito era facile intuirlo che le elezioni americane sarebbero stato un po' il driver di quest'anno ma mi sembra che avvicinandoci al 5 novembre siamo arrivati un po' a uno shift di priorità è stato per tutto l'anno e per i mesi passati per l'anno scorso l'inflazione i tassi il tema principale mi sembra che in questo momento i mercati stiano più reagendo a queste dinamiche rispetto a quelle di politica monetaria sarà una situazione del momento ma in ogni caso di nervosismo ce n'è abbiamo anche dato un'occhiata al VIX che è rimasto più o meno intorno a soglia 20 per un tempo abbastanza prolungato rispetto a quello cui ci aveva abituato ed ecco quindi individuato il tema elezioni americane come principale driver di quest'anno abbiamo pensato a cosa fare in termini di prodotto per andare incontro alle esigenze di investitori che potessero pensare che questo sarebbe stato il driver di quest'anno abbiamo lanciato questi prodotti a luglio ma che con ogni probabilità anche la scelta del candidato che poi sarà risulterà vincitore insieme al congresso come diceva Diego andranno a dare forma a quella che sarà poi quello che sarà poi l'indirizzo politico economico e anche di conseguenza quello dei mercati ovviamente Diego parlava del debito e come le agende le agende siano più o meno in linea chi spinge più chi spinge meno ma poi per tutti gli altri temi toccati le due agende politiche contrastano su su vari aspetti importanti che potrebbero ecco dare un bel indirizzo ai ai mercati azionari e tra l'altro lo stiamo anche già vedendo perché in termini di settori azionari secondo me ci stiamo già muovendo in linea con quelle che sono le proiezioni abbiamo parlato di un testa a testa ma se vai a vedere le proiezioni con più dati che sono quelle dei siti di scommesse per esempio addirittura Trump è dato al 70% quasi come vincitore quindi il sentiment è lì e ecco noi abbiamo pensato a come fare per andare incontro alle esigenze di chi volesse investire su questa tematica che poi non è un micro mega trend chi ci conosce sa che lavoriamo su gamme di prodotti tematici che vadano a intercettare i trend del momento del prossimo futuro e del futuro un po' più lontano in questo caso abbiamo detto come facciamo e se mi permetti condividerei un paio di slide veramente senza rubare troppo tempo certo ho la condivisione bloccata in questo momento Giulio aspetta che vogliamo risolvere subito in ogni caso appena vedo che si sblocca condivido ma continuerei quindi ci siamo detti abbiamo un buon know-how perché Fontobel per chi ci conosce lavora in direzione asset management wealth management e poi per la parte prodotti strutturati e quindi ci siamo detti perché non realizzare un prodotto all'interno della nostra gamma AMC strategic certificate dove il nostro team di asset management si incarica di andare a realizzare la gestione di un indice sottostante attiva selezionando quelle che sono le tematiche toccate dal partito democratico per un prodotto e le tematiche toccate dal partito repubblicano per un altro prodotto quindi due indici azionari composti da 30 azioni l'uno queste azioni vengono selezionate con filtri quantitativi qualitativi e con discrezionalità data dalla tipologia di prodotto ricordiamolo AMC significa actively managed certificate quindi un certificato dove si si scusami scusami perché magari non tutti i partecipanti della sala conoscono questo prodotto appunto gli AMC e quelli che sono i loro punti di forza oltre che il meccanismo quindi mentre appunto ti chiedo come funzionano mi piacerebbe far partire un secondo un sondaggio che va appunto a testare questo se sei d'accordo così vediamo un attimo assolutamente anche perché mi aiuta a inquadrare meglio il discorso esatto intanto ti chiedo appunto cosa sono e come si per cosa si contraddistinguono principalmente gli AMC allora gli AMC rientrano all'interno di una categoria di una macro categoria che è quella di certificati a capitale non protetto quindi sono la forma più semplice di certificato vanno e lo farei brevemente vedere non so se si vede comunque la mia presentazione durante il soldaggio oppure no no durante il soldaggio lo spiego a parole è la forma più facile più lineare di certificato lo state vedendo in questo momento stiamo parlando di una replica lineare di un'attività sottostante poi questa attività sottostante può essere un'azione può essere un indice azionario conosciuto un S&P una materia prima ecco nel caso degli strategic certificate che poi è il nome commerciale degli AMC actively managed certificate per i più esperti ecco l'abbiamo chiamato strategic certificate come nome commerciale la particolarità risiede proprio nel sottostante perché il sottostante non è altro di fatto che una una gestione del nostro team delle nostre boutique di asset management che vanno a selezionare quei titoli azionari che entrano all'interno dell'indice sottostante in base a determinati criteri in base al taglio che vogliamo dare al nostro prodotto siamo particolarmente profondi in termini di gamma per i nostri tematici Giulio con te abbiamo parlato in varie occasioni di tutte quelle che sono le nostre soluzioni per intelligenza artificiale gaming aerospazio difesa abbiamo veramente tante tematiche ma in questo caso ci siamo concentrati sul tema elezioni americane e quindi ci posizioniamo di fatto come tipologia di prodotto tra due mondi quello degli etf e quello dei fondi comuni di investimento di fatto per chi li conosce più o meno una sorta di activity etf attivi ci sono dei vantaggi ci sono degli svantaggi ovviamente parliamo di un certificato rimaniamo all'interno del segmento certificato e quindi forse la differenza più importante da rimarcare è quella della mancanza di separazione patrimoniale che caratterizza etf e fondi comuni di investimento quindi di fatto il certificato amc strategic certificate espone l'investitore al rischio di default dell'emittente altra altra differenza particolarmente importante a questo punto d'altra parte è quella della fiscalità perché il certificato in quanto tale genera plusvalenze da reddito diverso e quindi utile utile alla compensazione delle minusvalenze questo non è assolutamente possibile con altri prodotti banalmente etf e fondi quindi sono efficienti dal punto di vista fiscale esattamente almeno fin tanto che non si decide per un'armonizzazione è arrivata come proposta ma per il momento rimaniamo su questa linea ci sono altre differenze ma andrei più nel dettaglio di cosa abbiamo fatto nel pratico abbiamo spiegato brevemente che abbiamo creato di fatto due certificati ognuno uno dei quali segue l'andamento di un di un indice composto da azioni appartenenti a settori che potrebbero beneficiare dalla vittoria del partito democratico e un altro che è composto da azioni che potrebbero beneficiare dalla vittoria del partito repubblicano vorrei soffermarmi al volo sì vorrei soffermarmi al volo su quella che è il processo di selezione dei titoli perché il punto di partenza è l'MCI USA quindi 610 titoli all'interno dell'MCI USA dopodiché abbiamo selezionato sei tematiche fondamentali per cui richiediamo che per entrare all'interno dell'indice quindi la selezione finale le azioni devono generare dei gran parte dei loro ricavi da uno di questi temi che abbiamo selezionato e che a breve andiamo a vedere quindi MSCI USA large mid cap con una piccola componente di small cap devono generare questa azione dei ricavi in linea con quelle tematiche che per noi sono centrali per andare a rappresentare al meglio quelle che sono le due agende politiche dopodiché 20 titoli devono essere per forza large o mid cap per rappresentare la componente core 10 titoli e dove entra in gioco di fatto la discrezionalità per avere quella componente satellite e un po' più di pepe permettetemelo permettetemi questo ecco dopodiché avviene la parte qualitativa perché quando si arriva alla selezione un po' più grezza la selezione finale viene effettuata in base al punteggio di qualità quindi dei bilanci se sono al di sopra del cinquantesimo percentile possono entrare nel portafoglio altrimenti no quindi tutto questo per far sì che la selezione finale sia una selezione concreta solida che comunque vada ad includere dei titoli che potrebbero indipendentemente beneficiare nel lungo termine dal punto di vista del mercato azionario i temi che ovviamente parlavamo di agende politiche parliamo dei democratici e i temi li conosciamo bene quindi abbiamo le rinnovabili abbiamo la tecnologia ma soprattutto abbiamo un peso abbastanza importante per quello che è la componente farma quindi tutta la questione della sanità che sicuramente per i democratici è una priorità veicoli elettrici mobilità verde in tanti ci hanno detto sì però Tesla da una parte contribuisce alla campagna di Trump ma comunque beneficerebbe della vittoria dei democratici in ogni caso è un tema centrale dell'agenda democratica infrastrutture beni di consumo di base d'altra parte abbiamo immobiliare aerospazio difesa energie combustibili fossili infrastrutture manifattura rimane tecnologie medie e soprattutto finanze e telecomunicazioni per chiudere prima di lanciare i prodotti ci siamo abbiamo voluto fare uno studio approfondito se valesse la pena lanciare questo prodotto e quindi abbiamo backtestato i basket iniziali in due fasi nella fase in cui le elezioni del 2016 risultato vincitore Donald Trump e in corrispondenza delle elezioni del 2020 quando invece a vincere è stato Biden abbiamo una slide su questo puoi mostrarla che stai condividendo lo schermo adesso io lo sto vedendo sto vedendo la slide che ho condiviso voi cosa state vedendo adesso si hai condiviso la slide di un backtest ok perfetto e quindi per andare a verificare poi la bontà della selezione poi è chiaro che le performance del passato non sono garanzia del futuro ma è sicuramente un buon indicatore e quindi in corrispondenza del 2016 quindi vittoria di Trump l'indice democratico il paniere democratico ha sovraperformato di solo il 2% l'MSI USA mentre nell'elezione del 2020 quindi quando vincere è stato Biden ha sovraperformato del 7% discorso un po' diverso per il basket per la selezione repubblicana perché quando ha vinto Trump addirittura siamo arrivati a sovraperformare l'MSI USA del 17% mentre quando vince l'estato Biden ha sottoperformato di un 3% quindi questa è la la tematica che volevo introdurre per questi prodotti Giulio è molto più importante è molto più importante centrare il sottostante che il prodotto perché il prodotto è la forma più semplice di investimento di fatto e quindi questa è stata l'idea se poi andiamo a vedere i prezzi come dicevo in apertura i prezzi stanno riflettendo quelli che sono quelle che sono le dinamiche dei sondaggi perché il certificato repubblicano sta performando in maniera significativamente migliore rispetto a quello democratico se vuoi puoi farli vedere anche dal sito dal vostro sito che almeno abbiamo la composizione con appunto la suddivisione delle varie asset classe e dei dieci titoli immagino più più presenti con un peso migliore mi confermi che si vede il mio schermo esatto sì assolutamente ok perfetto quindi anche i simboli sono abbastanza intuitivi per esempio prendiamo Trump il simbolo F Trump questo è il prodotto ovviamente non ci sono prezzi perché il mercato in questo momento è chiuso ma lo possiamo vedere dal grafico l'ultimo prezzo denaro battuto è 106,70 lettera 107,76 quindi significa da tenere in considerazione comunque l'indice significa che una performance per chi ha comprato il certificato in apertura una performance di circa il 7% se invece andiamo a vedere il secondo quindi il democratico la performance in questo momento è del 1,09 in bid ovviamente sempre da tenere in considerazione il spread denaro lettera quello cui facevi riferimento Giulio lo si può trovare nella parte bassa quindi ovviamente qui c'è una bella sintesi di quello che ho detto tipologie di attività stiamo parlando esclusivamente di azioni paesi stiamo parlando esclusivamente di Stati Uniti valute stiamo parlando esclusivamente di dollaro dove entra in gioco la diversificazione tra i due basket e proprio la composizione settoriale e in questo momento la parte tecnologica ha un peso particolarmente particolarmente importante e qui sulla destra potete vedere quotidianamente aggiornata quella che è la composizione dei due panieri con i relativi pesi che sono aggiornati quindi questi qua quotidianamente non live ma sì quotidianamente perfetto comunque come dicevi Jacopo l'impatto delle elezioni rimanendo appunto sui settori avrà un impatto anche sui diversi comparti e quindi a seconda di chi vincerà avrà un effetto diverso appunto si rifletterà in maniera diversa anche qui vorrei fare appunto un sondaggio su questo per cercare di capire secondo voi quali sono i settori i più promettenti in questa fase di mercato e per anche l'inizio dell'anno prossimo e andrei a rivolgere la stessa domanda del sondaggio anche a Diego quindi Diego ancora banche nel mirino delle investitori o abbiamo anche altri settori da monitorare? Sì e qui dobbiamo fare un po' una distinzione se stiamo parlando di mercato europeo italiano o mercato americano ovviamente perché diciamo tecnologia vuol dire america quindi in realtà in Europa non abbiamo grandi titoli tecnologici se non giusto qualcuno tipo sml stm o in germania l'infineon quindi chi vuole giocare un po' soprattutto sull'intelligenza artificiale che penso che sia un tema che andrà forte anche nel corso dell'anno prossimo sicuramente lo deve giocare con i tecnologici in america il discorso delle banche è più un discorso europeo e tra il livello italiano abbiamo visto un forte rally di tutto il settore sia lo scorso anno che quest'anno allora dal punto di vista valutativo direi che sono sicuramente ancora interessanti ovviamente che ovviamente che in questa fase in cui ci si aspetta un po' i tassi in discesa e visto il rally che hanno fatto può darsi che relativo al mercato non sovraperformeranno nel breve ma potrebbe tornare interessanti invece nel 2025 dall'altro lato abbiamo le utility che sto per chiedere perché in diversi hanno risposto utility al sondaggio si alla fine le utility beneficiano di un ribasso dei tassi di conseguenza infatti se uno va a vedere ad esempio anche la relazione che c'è tra il BTP e la Enel vede che c'è una forte correlazione tra i due quindi dovrebbe essere un settore che continuerà a performare oltre al fatto che diverse utility soprattutto quelle legate alla produzione idro stanno vivendo un ottimo momento anche dal punto di vista dei numeri quindi è sicuramente un settore interessante un po' più incerto invece e lo stiamo vedendo soprattutto nel settore auto è la parte ciclica industriale perché sono quelle un po' più legate diciamo al rallentamento abbiamo parlato molto di un rallentamento che interessa soprattutto Europa Germania in primis e quindi ecco sul settore ciclo industriale aspetterei un attimo di vedere i numeri prima di prendere delle decisioni poi infine abbiamo un tema che si parla spesso di cui si parla spesso è quello del lusso ecco questo è più legato all'andamento della Cina non l'abbiamo messo nel sondaggio però diciamo è un tema che è un settore che sta soffrendo però ogni volta che esce una notizia buona sulla Cina ogni volta che il mercato il governo cinese cerca di mettere una pezza e con qualche manovra promettere nuovi stimoli quindi direi è un settore sicuramente da guardare anche nel corso del 2025 ottimo ottimo perfetto allora grazie mille direi grazie mille Diego per le tue preziosi analisi allora ti libero ringraziamo grazie a voi Diego Topoli responsabile advisory a gestione di Intermonte grazie Diego buon proseguimento ciao Diego buonasera prossima ciao Jacopo tornerei appunto da Jacopo perché siamo entrati nella parte finale dell'anno un periodo in cui gli investitori cercano anche di ottimizzare i loro portafogli anche dal punto di vista fiscale e da questo punto di vista i certificati hanno un grandissimo vantaggio già lo anticipavo prima in occasione appunto della spiegazione dell'EMC però spiegaci bene quali sono le particolarità e se avete dei prodotti che permettono di sfruttare al meglio questi vantaggi sì hai detto hai detto tutto ma non hai fatto riferimento a una cosa importante che quest'anno in particolar modo andranno in scadenza il 31-12-24 le minus generate proprio in quel 2020 maledetto e quindi abbiamo lavorato da inizio anno per permettere una gestione ottimale e un efficientamento fiscale ottimale dei propri portafogli con strutture che tutti conoscono immagino le strutture maxi cash collect quindi quei certificati che concentrano in una fase iniziale della vita del prodotto grandissima parte del rendimento offerto da tutto lo strumento quindi sono prodotti che pagano una maxi cedola a condizioni solitamente facilitate quindi se chi ci segue conosce le dinamiche dei certificati a capitale condizionatamente protetto sa che le cedole sono anche loro condizionate alla tenuta di determinati livelli ecco che di solito per far sì che la cedola venga incassata si mette questa condizione particolarmente facile da raggiungere diciamo e quindi ovviamente la maxi cedola è una misura diretta essendo una misura di rendimento una misura diretta di quella che è la componente di rischio ovvero una selezione di basket sottostante con titoli particolarmente volatili darà vita a una maxi cedola particolarmente elevata titoli invece un po' più tranquilli passatemi il termine daranno una maxi cedola di importo inferiore a parità di condizioni in ogni caso esatto questo è proprio il punto perché poi Giulio il nostro lavoro non è quello di dirvi comprate questo prodotto o non comprate quest'altro prodotto il nostro lavoro è quello di mettere a disposizione tutti gli strumenti possibili per fare in modo che poi ognuno di voi con le proprie esigenze vada al nostro negozio e trovi il prodotto più in linea con le sue esigenze quindi se mi permetti ricondividerei di nuovo assolutamente Giulio sì perché ognuno ha le proprie avversione a rischio quindi voi offrete un ventaglio di strumenti e poi esattamente e lo vediamo chiaramente da questa tabella che sto per farvi vedere non so se è troppo zoomato se si legge in ogni caso questa è la nostra ultima emissione è la nostra ultima emissione quindi proprio per andare in quella direzione del fornire tutti gli strumenti possibili immaginabili vi direi di concentrarvi qui per il momento perché sicuramente è la cosa più interessante quando si parla di strumenti di questo tipo partiamo da maxicedole di 11 euro quindi 11% sul nominale 100 euro per arrivare addirittura a premi del 35% questo è quello che vi dicevo cioè stiamo parlando di una misura diretta della della volatilità di fatto o della componente dividendo ma più importante sicuramente la componente di volatilità del sottostante e quindi un basket lusso che per carità è stato penalizzato ma è stato un penalizzare il settore di lungo di lungo respiro mi viene da dire non è che ci sono mai stati dei movimenti impressionanti a parte qualche seduta spot data proprio dalle notizie parlavamo di Cina poco fa ma indipendentemente da quello ce n'è per tutti i gusti quindi lusso automotive media intrattenimento Italia tanta Italia banche italiane semiconduttori ma soprattutto abbiamo voluto dare la possibilità di organizzare al meglio per un'altra caratteristica perché state vedendo che per questi prodotti c'è una cedola bimestrale per i secondi prodotti c'è una cedola mensile quindi questo vuol dire che noi li abbiamo lanciati a settembre da qui in giù questi prodotti pagheranno la propria maxi cedola proprio tra quattro giorni se non sbaglio Giulio comunque ne possiamo ne possiamo aprire uno e se mi confermi che si sta vedendo il mio schermo questo direi che è una cosa è una cosa importante da andare a vedere perché in tantissimi ci chiedono ma quindi quando posso comprarlo fino a che giorno ecco quando voi aprite i nostri le nostre condizioni definitive c'è un calendario importantissimo da tenere in considerazione e questa è la data utile ma non solo per il maxi coupon per tutte per tutte le cedole la bonus record date è la data che dovete tenere sempre a mente perché andando ad aprire il calendario se la data record è il 30 di ottobre significa che due giorni prima della data record è l'ultimo giorno utile per andare a comprare proprio per la differenza tra data valuta è data contabile e quindi 28 di ottobre in questo caso per i prodotti sarà l'ultimo giorno utile per andare a acquistare il prodotto mantenendo il diritto all'incasso del premio mentre per quelli con cedola bimestrale si ha un po' più di tempo perché la cedola verrà pagata a fine di novembre e inizio dicembre comunque ancora in tempo per compensare le minus del 2020 assolutamente abbiamo fatto di tutto per fare in modo che la data di pagamento sia con dovuto anticipo rispetto alla fine dell'anno perché poi è quello che fa fede quindi quando arriva l'accredito sul conto è lì che conta in termini di compensazione qui una piccola parentesi Giulio permettimela dobbiamo sempre fare un controllo direi con il proprio intermediario perché esistono in Italia due interpretazioni della fiscalità esistono degli intermediari che operano con una compensazione immediata quindi significa che voi ricevete la cedola e immediatamente l'intermediario va a verificare ci sono minus valenze all'interno dello senso fiscale sì bene allora la cedola è accreditata all'orda e non si pagano tasse di fatto quindi si va a recuperare quello che è il credito fiscale vantato dopo aver generato una minus valenza mentre nel caso di altri intermediari altri intermediari vanno a fare questo discorso quindi vanno a controllare lo zainetto fiscale esclusivamente alla chiusura della posizione chiusura della posizione significa che o vendo il certificato o va in autocolle il certificato o arriva la naturale scadenza ma non prima perché prima questi intermediari vanno semplicemente a rettificare il prezzo di carico e quindi questo è importante da tenere in considerazione perché se si opera con un intermediario che non permette la compensazione immediata ecco bisogna probabilmente fare altre valutazioni perché non è così semplice la gestione in quest'ultimo caso benissimo ricordarlo non so se vuoi intervenire su qualcosa no guarda in realtà ti dicevo hai fatto benissimo ricordare la distinzione tra compensazione immediata scadenza questo è super importante in realtà prima volevo chiederti ho visto che appunto avete nella vostra nuova gamma anche diversi ma in particolare ho visto prima un maxi che aveva anche la possibilità di essere rimborsato anticipatamente già dai primi mesi di vita e comunque si offreva comunque una maxi di tutto rispetto quindi andrei a far vedere anche quello che mi pareva interessante poi ne avevo trovato un altro e qui Giulio e qui Giulio me lo ricordo perché l'ho emesso io e ci abbiamo lavorato un po' a pensarlo mi stavo collegando proprio a questo quindi mi ha intuito alla perfezione dove stavo andando perché ovviamente pensando a chi opera con intermediari che hanno un'interpretazione della fiscalità del tipo 2 che ho che ho descritto abbiamo pensato di dare una possibilità comunque anche loro di ragionare in ottica di compensazione minus valenze quindi questo prodotto che state che state vedendo che è quello che menzionava Giulio ha una particolarità non è come tutti gli altri ha una maxicedola e questo quindi rimane la stessa la stessa tipologia di prodotto ma una distinzione importantissima perché in corrispondenza della prima data di osservazione qui vedete frequenza cedolare mesi 2 significa che paga cedole bimestrali quindi bimestrali l'abbiamo emesso ad ottobre significa che il 9-12 è la prima data di rilevazione dove verrà pagato il maxi coupon che in questo caso è di 16 euro verrà pagato il maxi coupon ma non solo verrà pagato il maxi coupon e lo vedete presente qui come data il livello autocall attivo già a partire dalla prima data cosa significa che questo prodotto potrebbe a determinate condizioni che ora vi dirò pagare la maxicedola di 16 euro e contestualmente rimborsare il valore nominale quindi chiusura del prodotto e quindi essere anche utile per chi ha un intermediario che opera con la interpretazione fiscale di tipo 2 ovviamente qui ci sono delle valutazioni da fare perché questo scenario quindi lo scenario di autocall si verificherà quando si verificherà come potete vedere livello autocall qui stiamo guardando Monte dei Paschi ma ogni sottostante ha un livello autocall che è pari esattamente allo strike price quindi al prezzo fissato in fase di emissione cosa vuol dire questo? vuol dire che se i sottostanti tutti e 4 non perderanno nulla rispetto al valore fissato in fase di emissione questa è la data di osservazione dell'autocall esattamente alla data di osservazione dell'autocall cosa succede? questo prodotto paga il maxi coupon di 16 euro e restituisce all'investitore il valore nominale di 100 chiudendo tutta la posizione generando quindi un rendimento definitivo ora è chiaro che non abbiamo la sfera di cristallo non possiamo sapere cosa succede ma nella nostra testa questo prodotto è pensato proprio per andare incontro a determinate esigenze se me lo permetti Giulio perché penso che chi ci segue conoscerà ormai è il prodotto dell'anno mi viene da dire il fast cash collect no di fatto abbiamo fatto abbiamo fatto un fast cash collect che è un fast maxi cash collect esattamente no no è la prima volta che lo vedo io sicuramente questo devo dire Giulio che l'abbiamo lanciato uno lo scorso anno quasi con lo stesso basket e ci siamo riusciti è andato in autocall alla prima data quindi questo mi ha fatto molto felice anche sull'onda dell'eventuale rally di fine anno bene speriamo che accada pure su questo su questo paniera e invece dicevi prima per gli investitori più avversi al rischio facciamo vedere un maxi un pochino più prudente passami il il termine sì ti posso chiedere un supporto perché non ho l'isene sotto mano te lo ricordi che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa lo prendo io ok aspetta che condivido lo schermo ok condivido lo schermo ok dovresti vedere prova a confermarmelo sì esattamente qui in questo caso hai anticipato ma lo si vede anche ed è intuitivo anche da da quelli che sono i sottostanti che che fanno parte del basket sottostante scusate la ripetizione euro stock 50 S&P Nasdaq Futsimib già parlare di indici indica una volatilità diversa e un'esposizione a rischio diversa e anche una componente di dividendo diversa tra l'altro e questo però si traduce ovviamente lo dicevamo prima è il parallelismo rischio rendimento qui la maxi cedola è una maxi cedola di 5 euro quindi è maxi se la rapportiamo a quelli che sono i premi successivi che invece sono dello 0,5 ogni due mesi quindi un rendimento abbastanza povero ma ecco questo prodotto è nato più dall'esigenza invece di alcuni consulenti che ci hanno chiamato e ci hanno detto per profili di rischio più prudenti abbiamo bisogno di un qualcosa siamo un po' più capitalizzati quindi non ci interessa troppo andare a spingere sull'acceleratore sbilanciarci con una cedola del 20% quello che ci interessa è avere leggermente qualcosina di più in una fase iniziale abbiamo pensato a questa maxi cedola un po' più prudente fatta con indici abbiamo dovuto alzare la barriera leggermente perché nei casi precedenti era un 60% in questo caso è al 65% fatte le dovute proporzioni ovviamente per l'esposizione a indici azionari rispetto a quella a stock anche se soprattutto all'interno di Basketball e quindi idealmente questo prodotto pagherà un 5% e anche questo prodotto ha una possibilità di andare rimborso anticipato se non vado errato dopo un anno e quindi potenzialmente in caso di autocall comunque si tirerebbe fuori un rendimento del 750 rispetto all'emissione che comunque per un prodotto di questo tipo non è assolutamente male ma ecco sicuramente qui il focus è più sulla protezione per chi è forse o più capitalizzato o a poche meno svalenze poi comunque vedo che la durata sono tre anni ed è quanto quindi non è influenzabile dalle come tutti i nostri prodotti Giulio questo hai fatto benissimo a sottolinearlo ma tutti i nostri prodotti sono dotati di opzione quanto nel caso in cui ci siano sottostanti scambiati in divisa diversa da quella del certificato che è l'euro e quindi non dovete preoccuparvi della componente di cambio ottimo benissimo Jacopo direi che siamo giunti al termine del webinar di oggi però prima di salutarvi vi ricordo che potete trovare la registrazione del webinar sul nostro canale di youtube di websim dove troverete anche molti altri contenuti a supporto di quanto già pubblichiamo sul sito quello vedete tra l'altro nell'ultima slide che sto mostrando e tra l'altro per chi volesse anche ricevere le slide che abbiamo mostrato oggi può scrivere alla mail marketing intermonte punto it e manderemo le slide che abbiamo mostrato appunto nell'appuntamento di oggi detto ciò non mi resta che ringraziare ancora Jacopo Fiaschini di Fontobel e tutti i suoi interessanti spunti operativi sui mercati e ovviamente anche grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossima grazie mille a tutti buona serata a presto ciao a tutti ciao Giulio